Un uomo nudo che va ad inseguire un cinghiale che lo ha derubato nel momento. Il fatto si è verificato a Berlino, la città capitale della Germania, precisamente nelle live del lago Törfus. Un nudista era intento a prendere il sole, ha abbandonato l'ozio, l'uomo è stato costretto a fare uno scatto e a inseguire senza abita addosso un grosso cinghiale con i cuccioli che nel frattempo gli aveva sottratto con grande stressa, quindi con gran capacità la borsa. Che all'interno possedeva il personal computer. Il maccapitato uomo è riuscito però a recuperare la sacca sporca di pizza perché intanto i cinghiali avevano pensato bene di utilizzarla come piatto per mangiare le pizze. Sostratte anche essi dai bagnanti. Le foto scattate da Dele Landaur sono diventate virali sul web, diventando di dominio pubblico. Si vede quest'uomo piuttosto pancione, piuttosto anziano, nudo, che rincorre i cinghiali che vanno a farsi libero sfoggio di aver rubato la borsa con l'interno del personal computer e le relative pizze di questo bagnante tedesco in Germania. Berlino. Ciao da Leonardo, narratore italiano, al prossimo video.